ciao a tutti sono ginevra di marco e con l'ultimo fiato di questa giornata voglio ricordarvi 5 agosto prossimo a san marino presso la cava dei balestrieri dove suoneremo e canteremo il nostro ultimo disco un omaggio a luigi tenko quindi passeremo insieme a una serata di canzoni meravigliose in un sorriso sulle labbra di un altro